Mirko Brunetti e Perla Battiero si sono lasciati, e di pochi giorni fa la comunicazione ufficiale della fine della relazione dei due ex volti di Temptation Island e del Grande Fratello. In realtà, voci su una possibile separazione circolavano già da un po', ma i tantissimi fan della coppia speravano che si trattasse solo di chiacchiere o, almeno, di una crisi passeggera. Mirko e Perla ha i titoli di coda, la notizia ha avuto l'effetto di una bomba sull'esercito dei Perletti. Dopo l'annuncio, sui social è scoppiato un vero e proprio psicodramma. La maggioranza dei fan ci è rimasta malissimo. C'è chi scrive messaggi disperati e chi spera in un ripensamento. Addirittura si parla di persone finite in ospedale, perché non avrebbero retto allo shock. Gente in ospedale, malori e svenimenti. Perla e Mirko, shock dopo l'annuncio del loro addio. Di questo parla un messaggio e alcuni seguaci dell'ex coppia dei reality show, rilanciato da Deyanira Marzano, buongiorno, volevo dirvi che due delle nostre ragazze sono in ospedale. La nostra leader Matea Croazia sta molto male e attualmente non si è ancora ripresa. Vanessa si è ripresa oggi, l'ho sentita personalmente e sta meglio, ma è distrutta. Sono state male a causa della rottura. Senza rendersene conto, sono svenute e sono rimaste tutta la notte in ospedale. Vi rendete conto che questi ragazzi sono veri, umili e non è giusto che il loro amore debba finire. Non può essere distrutto così. Sui social si trovano altri messaggi con toni simili. In un altro video, divenuto virale, si sente una fan di Mirko e perla parlare in lacrime. Scusate, non ce la faccio a fare un video, si vede il mio volto straziato dalle lacrime. Poi la donna sembra lanciare un messaggio ai due ex fidanzati, chiedendo loro di tornare sui loro passi. Siete ragazzi straordinari, di successo, avete una bella casa e soldi. Ma queste cose perdono senso se non si possono condividere. Pensateci. Sempre dalla vostra parte. Tutte queste reazioni hanno sorpreso gli altri utenti del web, incredoli da quello che si vede, e legge in giro, siamo alla follia più totale. E un altro dice. Io non commento mai questa coppia e i loro fan, ma in questi giorni sto vedendo cose assurde, gente che piange, che si dispera, che si sente male, che va in ospedale, è folle e preoccupante tutto ciò. Ma nelle loro vite non hanno nulla di più importante di questo due? Mi preoccupano.